Musica Domani allerta meteo, previste piogge che saranno di debole intensità al mattino e più intense nel pomeriggio, massima attenzione nelle zone colpite dall'alluvione. Denunciato autista pirata, aveva tamponato un'auto ferma e si era allontanato nei guai un 21enne piacentino per omissione di soccorso, patente e mezzo ritirati. Mense scuola, 25 mila pasti a settimana, calano le domande di iscrizione per il termine anticipato, il comune è ritardatari, affrettatevi. Residenti di Via Colombo, viviamo con la paura, gli abitanti di un condominio denunciano lo stato di degrado e abbandono in cui versa la zona di notte, tra risse, prostituzione e incuria. Norma Eccanica, una squadra da sogno, oggi la presentazione ufficiale del team di pallavolo femminile, il presidente Cercello, vogliamo vincere, giovedì alle 20.15, speciale su Tele Libertà. Eccanica, una squadra da sogno, oggi la presentazione ufficiale del team di pallavolo femminile, il presidente Cercello, vogliamo vincere, giovedì alle 20.15, speciale su Tele Libertà.